Musica Ok, il programma di oggi è che andiamo a fare alpinismo a Passorolle Scegli alpinismo E l'altra cosa importante è che Devo mettere le chiavi della macchina Allora, il piano è che Tra qualche minuto mi devo incontrare con Denisa La sportiva Mi devo comprare un po' di roba E affittare anche gli sci da alpinismo Che non ce li ho E fuori ci sono 7 gradi È una giornata strepitosa Qua in montagna c'è un gran sole Io ho anche provato a prendere il drone Però il problema è che Ultimamente quando provo a far volare il Mavic In montagna Vola due minuti E poi dopo mi dice che c'è troppo freddo E che sta tentando l'atterraggio di emergenza Che l'atterraggio di emergenza non è molto carino Perché nel momento in cui provo ad atterrare Lui scende dritto dritto sulla neve E ovviamente non è un gran che Ok, ho noleggiato gli sci Ho comprato un po' di roba Tra cui uno scaldacollo Dei pantaloni fighissimi della sportiva Da sci Alpinismo E Calze da sci E una torcia Invece per sciare di notte Quando si fa alpinismo E invece questi sono dei Dei moschettoni da arrampicata Che però in realtà utilizzo Dopo vi farò vedere Per attaccare la macchina fotografica Allo zaino esternamente Senza doverla mettere dentro fuori Involta Se è riuscito ad attaccare la gopro Vediamo quanto dura Prima di cadere per terra Ah non è il roll È l'usium Sì Io da stamattina Che parlo del roll Va bene Stiamo riprendendo Ciò che c'è fuori Qui c'è Denise che mette le pelli Guarda qui Guarda qui un po' di product placement In questo video La sportiva Che eres Tommy? Tony Chi è? Sei te Sei te il Tony I nostri toast sono diventati Mangiamo? I firi sportivi Prendono le scale mobili E' venuto il momento di mangiare Perché io ho veramente fame Denise mi è sempre seconda Questa è la mia seconda No terza volta che vado con le pelli E diciamo che ho sentito un po' meno la fatica Rispetto all'altra volta Allora facciamo un volo Veloce veloce Si Sì 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 Sì